No, scusa, fammi vedere Fammi vedere, fammi vedere Ma cos'è? No, ma cos'è? Guarda, la su Ma che cavolo è? Oh, oh, oh Ma guarda che vero Quello le spia No, ma che Oh Raga, io ho i brividi, ti giuro Ho i brividi È andato in onda, si è visto? Ma si può rivedere? Eh, adesso lo sento Ma scusate, ma ragazzi Guarda, inquadra la gente Ho capito, ma loro stanno Scusate, ma voi l'avete visto? L'avete visto? L'avete visto là? Eh, sì L'aer Ma non c'è più un cavolo Ma questo registra, questo qua registrato? Sì, sì, ho visto sul monitor, si è visto Io l'ho visto dal monitor Dal monitor, è andato in onda, credo sia andato in onda Sì, sì, sì Cioè ragazzi, io sono senza parole Sì iscrivi alarakta Grazie a tutti